ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco agile con farma srl ultimo aggiornamento 4 ottobre 2021 cosa agile confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia contro indicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere agile durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa agileva agileva un farmaco a base del principio attivo levoflux cinemidrato appartenente alla categoria degli antibatterici chinolonici e nello specifico fluoro chinoloni e commercializzato in italia dall'azienda con farma srl agileva può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni agile 500 mg 5 compresse rivestite con film informazioni commerciali sulla prescrizione titolare con farma srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo levoflux cinemidrato gruppo terapeutico antibatterici chinolonici forma farmaceutica compressa rivestita indicazioni agileva indicato negli adulti nel trattamento delle infezioni riportate di seguito vedere paragrafi 4 4 e 5 1 pielonefrite acuta infezioni complicate delle vie urinarie vedere paragrafo 44 prostatite batterica cronica inalazione di antrace profilassi dopo l'esposizione e trattamento curativo vedere paragrafo 44 nelle indicazioni sotto menzionate agilev deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste infezioni sia considerato inadeguato sinusite batterica acuta esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva inclusa la bronchite polmoniti acquisite in comunità infezioni complicate della cute e dei tessuti molli cistite non complicata vedere paragrafo 44 agilev può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con levo fluxa cina per via induvenosa prestare attenzione alle linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici posologia agilev compresse viene somministrato una o due volte al giorno la dose dipende dal tipo dalla gravità dell'infezione e dalla sensibilità del patogeno ritenuto causa dell'infezione agilev compresse può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con levo fluxa cina per via induvenosa considerata la bioequivalenza delle formulazioni orale e parenterale può essere utilizzata la stessa dose posologia sono raccomandate le seguenti e dosi di agilev dosi nei pazienti con funzionalità renale normale clear ance della creatinina 50 ml bar a min indicazioni dosi giornaliere in relazione alla gravità durata del trattamento sinusite batterica acuta 500 mg una volta al giorno 10 14 giorni esacerbazione batterica acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva inclusa la bronchite 500 mg una volta al giorno 7 10 giorni polmoniti acquisite in comunità 500 mg una o due volte al giorno 7 14 giorni pieno fritta acuta 500 mg una volta al giorno 7 10 giorni infezioni complicate delle vie urinarie 500 mg una volta al giorno 7 14 giorni cistite non complicata 250 mg una volta al giorno 3 giorni prostatite batterica cronica 500 mg una volta al giorno 28 giorni infezioni complicate della cute e dei tessuti molli 500 mg una o due volte al giorno 7 a 14 giorni inalazione di antrace 500 mg una volta al giorno 8 settimane popolazioni speciali funzionalità renale compromessa clear ance della creatinina 0 50 ml bar a min dosi 250 mg bar a 24 h 500 mg bar a 24 h 500 mg bar a 12 h clear ance della creatinina prima dose 250 mg prima dose 250 mg prima dose 500 mg 50 20 ml bar a min dosi successive 125 mg bar a 24 h dosi successive 250 mg bar a 24 h dosi successive 250 mg bar a 12 h 19 10 ml bar a min dosi successive 125 mg bar a m g bar a 48 h dosi successive 125 mg bar a 24 h dosi successive 125 mg bar a 12 h 10 ml bar a min incluse mo dialisi e dialisi peritoneale ambulatoriale continua dosi successive 125 mg bar a 48 h dosi successive 125 mg bar a 24 h dosi successive 125 mg bar a 24 h non sono richieste dosi aggiuntive dopo e mo dialisi o dialisi peritoneale ambulatoriale continua funzionalità epatica compromessa non ha necessaria alcuna modifica della dose in quanto l'evofluxacina non viene metabolizzata in quantità rilevanti dal fegato e viene escreta principalmente per via renale anziani non ha necessaria alcuna modifica della dose negli anziani se non quella imposta da considerazioni sulla funzionalità renale vedere paragrafo 4 4 a euro stendi nite e rottura del tendine a euro s e a euro sprolungamento dell'intervallo qt a euro s popolazione pediatrica agileva controindicato nei bambini e negli adolescenti nel periodo della crescita vedere paragrafo 43 modo di somministrazione le compresse di agilev devono essere inghiottite senza masticare con un quantitativo sufficiente di liquido possono essere divise alla linea di frattura per aggiustare la dose si possono assumere le compresse ai pasti o lontano dai pasti si devono prendere le compresse di agilev almeno due ore prima o dopo l'assunzione di sali di ferro sali di zinco antiacidi contenenti magnesio o alluminio o di danosina solo formulazioni di di danosina contenenti tamponi di alluminio o magnesio e sucro al fatto poi cacopirait può venirne ridotto l'assorbimento vedere paragrafo 45 controindicazioni agilev compresse non deve essere somministrato a pazienti che abbiano manifestato ipersensibilità al principio attivo ad altri chinolonici ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 a pazienti epilettici a pazienti con anamnesi di affezioni tendine e correlate alla somministrazione di fluoro chinolonici a bambini o adolescenti nel periodo della crescita alle donne in gravidanza alle donne che allattano al seno avvertenze speciali e precauzione di impiego l'uso di levofloxacina deve essere evitato nei pazienti che in passato hanno manifestato reazioni avverse gravi durante l'uso di medicinali contenenti chinoloni o fluoro chinoloni vedere paragrafo 48 il trattamento di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetto di altri medicinali su agilev sali di ferro sali di zinco anti acidi contenenti magnesio alluminio di danosina l'assorbimento di levofloxacina risulta significativamente ridotto quando agilev compresse viene somministrato in vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere agilev insieme ad altri farmaci come euros or nayover euro euro Salo della parola euro sa mio dar compressa euro a euro sa mio darone euro bank euro e euro sa mio darone cloridrato bio industrial punto i punto m punto a euro euro sa свою darone equa euro a euro sa mio darone millena euro a euro sa mio darone ratio farm italia euro a euro sa mio darone sandozza euro a euro samiodarone zentiva a euro, a euro samiodar, soluzione, uso interno, a euro, a euro santepsin, compressa, sospensione a euro, a euro santepsin, polvere a euro, a euro sascriptin a euro, a euro saviflucox a euro, a euro sbifozila a euro, a euro scalcio più magnesio cloruro bioindustrial.i.m.a euro, a euro scannacida a euro, a euro citrafletta a euro, a euro citrato espresso gabbiani a euro, a euro scordarone a euro, a euro scomadina a euro, a euro screnozola a euro, a euro scromatom ferro compresse effervescenti a euro, a euro scristalsola a euro, a euro sbegastrila a euro, a euro sdifluca, capsula a euro, a euro sdifluca, polvere a euro, a euro sdifluca, sdifluca, soluzione, uso interno, a euro, a euro sdifluca, 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 a euro, a euro sdiflu e.a euro a euros elettrolitica bail.たい più glucosio monico a euro a euros elettrolitica bail.mante più glucosio bach per auto a euros elettrolitica bail. mentioned ii più glucosio galenica senesa euro a euros elettrolitica b il punto scritta ii più glucosio salva euro a euros elettro liti cabilla ridro con glucosio più calco yes look monico a euro, a euros elettrolitica ec.enterica diaco a euro, a euros elettrolitica ec.enterica fresenius cabitalia a euro, a euros elettrolitica ec.enterica monico a euro, a euros elettrolitica ec.pediatrica baxter a euro, a euros elettrolitica ec.pediatrica bioindustrial.i.m.a euro, a euros elettrolitica ec.pediatrica fresenius cabitalia a euro, a euros elettrolitica ec.pediatrica galenica senese a euro a euros elettrolitica ec.pediatrica monico a euro a euros elettrolitica ec.pediatrica salfa euro a euros elettrolitica raid più gl più cadulconato fresenius cab italia euro a euros elettrolitica raid più gl più cadulconato galenica senese a euro a euros elettrolitica raid più gl più caduconato salfa euro a euros elettrolitica reidratante bioindustrial in sol per inf il euro a euros elettrolitica reidratante ii backs per a euro a euros elettrolitica reidratante ii di acqua euro a euros elettrolitica reidratante ii più glucosio fresenius cap italia euro a euros elettrolitica reidratante ii più glucosio monico euro a euros elettrolitica reidratante ii fresenius capitali a euro a euros elettrolitica reidratante ii galenica senese a euro a euros elettrolitica reidratante ii monico a euro a euros elettrolitica reidratante ii salfa euro a euros elettrolitica rent più gl più nagel conato bioindustrial punto i punto m punto a euro a euros elettrolitica rent più gl più nagel conato galenica senese a euro a euros elettrolitica rent Più nagro il conato Baxter a euro, a euros elettroliti carent. Più nagro il conato bioindustrial.i.m.a euro, a euros elettroliti carent. Più nagro il conato Galenica Senese a euro, a euros elettroliti carent. Più nagro il conato Monico a euro, a euros elettroliti carent. Più nagro il conato Salfa a euro, a euros elettroliti carent. Piut pot più GL più nagel conato bioindustrial a euro, a euro se elettroliti carent. Piut pot più GL più nagel conato galenica senese a euro, a euro se elettroliti carent. Piut pot più GL più nagel conato monico a euro, a euro se elettroliti carent. Piut pot più GL più nagel conato salfa a euro, a euro se elettroliti carent. PH 7,4 più nagel conato bioindustrialima a euro, a euro se elettroliti carent. PH 7,4 PIN A GULCONATO SALFA EURO, A EUROS EXTRANEL A EURO, A EUROS FERRO COMPLEX A EURO, A EUROS FERRO GULCONATO EGA EURO, A EUROS FERRO GRAD CA EURO, A EUROS FERRO GRAD A EURO, A EUROS FERRO GRAD FULICA EURO, A EUROS FERRO GINA EURO, A EUROS FLUCONANZOLO AB CA EURO, A EUROS FLUCONANZOLO ACORDA EURO, A EUROS FLUCONANZOLO ALMUS A EURO, A EUROS FLUCONANZOLO AUROBINDO A EURO, A EUROS FLUCONANZOLO B BROWN A EURO, A EUROS FLUCONANZOLO B BROWN A EURO, A EUROS F bioindustrial.i.m. a euro a euro sfluco nanzolo doc generica euro a euro sfluco nanzolo e gaeuro a euro sfluco nanzolo galenica senese a euro a euro sfluco nanzolo ex alla euro a euro sfluco nanzolo icma euro a euro sfluco nanzolo cavia euro a euro sfluco nanzolo milan euro a euro sfluco nanzolo pensa euro a euro sfluco nanzolo ratio farma euro a euro sfluco nanzolo sanduza euro a rossi nucleo le $1.euros sulla euro a euro a rossi lunch o stinke 시� launched invita euro a ross fichy mixau euro a ross su lu mossa euro a euros flue metros euro a euro fm nüx bomica complex euro a euro s fms calcio m flu latum complexe euro a ross framing ii eu know e ross a perde euro e ross più josero euro, a euros gemiflux a euro, a euros glorosa a euro, a euros gulcoferro a euro, a euros hidrossicloroquina doc a euro, a euros isolite a euro, a euros che todola a euro, a euros claider a euro, a euros le funzola a euro, a euros los ferron a euro, a euros l'candio a euro, a euros malox, compressa a euro, a euros malox, compressa masticabile a euro, a euros malox plus, compressa masticabile a euro, a euros malox plus, sospensione a euro, Aerosma Alox, sospensione a euro, aerosmagnesia bisurata aromatica a euro, aerosmagnesia effervescente sella euro, aerosmagnesia S, pellegrino a euro, aerosmagnesiosulfato bioindustrial.i.m.a euro, aerosmagnesiosulfato galenica senese a euro, aerosmagnesiosulfato salfa a euro, aerosmiconix a euro, aerosmuches a euro, aerosmultac a euro, aerosmiferex a euro, aerosnutrineal PD4 a euro, a euro speditracea a euro, a euro spicco prepa euro, a euro splaquenil a euro, a euro spronto ferro a euro, a euro sriflax a euro, a euro sol. Cardioplegica bioindustrial im sol. ADS Thomas I a euro, a euro soluzione cardioplegica galenica senese a euro, a euro soluzione per circolazione extracorporea, S Thomas I, Monico a euro, a euro sterofundina euro, a euro sucralfato aristo a euro, a euro sucralfato doc generic a euro, a euro sucralfina Euro, Euro sucra mal, compressa a Euro, Euro sucra mal, granulato a Euro, Euro sucratege la Euro, Euro sustaina Euro, Euro star di ferro a Euro, Euro ste di ma Euro, Euro stri micosa Euro, Euro sveno ferra a Euro, Euro svolu it e意思 capsula a Euro, Euro suas vinca Euro, Euro stamizola Euro, Euro surfuna Euro Euro, Euro st emociona Euro, Euro st 5 ossido a fama euro a euro 5 ossido 9 argenti a 10 per cento un guento a euro a euro 5 ossido un guento se la euro a euro 5 ossido un guento z euro a euro 5 sul fatto idea euro a euro si merita euro a euro solo dera euro eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere agile durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere agile durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza vi sono dati limitati sull'uso di levofloxacina in donne in gravidanza gli studi di riproduzione sull'animale non hanno evidenziato effetti diretti o indiretti pericolosi di tossicità riproduttiva vedere paragrafo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari alcuni effetti indesiderati di levofloxacina esempio capogiri vertigini sonnolenza disturbi visivi possono alterare la capacità di concentrazione e di reazione del paziente con conseguente rischio in situazioni dove tali capacità sono di particolare importanza ad esempio durante la guida di automobili all'uso di macchinari effetti indesiderati le informazioni sono riconducibili a studi clinici effettuati su piatti 8.300 pazienti e ad una vasta esperienza di post marketing le frequenze nella tabella sono definite secondo la seguente convenzione vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio in accordo con gli studi di tossicità sull'animale o con gli studi di farmacologia clinica condotti con dosi superiori alle dosi terapeutiche i sintomi più importanti che si manifestano dopo sovradosaggio acuto con agile e compresse sono quelli a livello del sistema nervoso centrale quali confusione capogiri compromissioni della coscienza attacchi convulsivi prolungamento dell'intervallo cuti e reazioni gastrointestinali quali nausea erosioni della mucosa nell'esperienza dopo la commercializzazione del medicinale sono stati osservati effetti a carico del sistema nervoso centrale inclusi stato confusionale convulsioni allucinazioni e tremore in caso di sovradosaggio si deve praticare il trattamento sintomatico deve essere effettuato un monitoraggio elettrocardiografico per la possibilità di prolungamento dell'intervallo cuti gli antiacidi possono essere impiegati per la protezione della mucosa gastrica l'emodialisi inclusa la dialisi peritoneale e dialisi peritoneale ambulatoriale continua capd non sono efficaci nel rimuovere l'evofluoxacina non sono noti antidoti specifici proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antibatterici chinolonici fluoro chinoloni codice atc il lunga 0 1 ma 12 levofluoxacina ha un antibatterico di sintesi appartenente alla classe dei fluoro chinolonici ed allenanti omero s della racia emotivo di ofluoxacina proprietà farmacocinetiche assorbimento somministrata per via orale levofluoxacina rapidamente e quasi completamente assorbita con una concentrazione al picco plasmatico che si ottiene in 12 ore la biodisponibilità assoluta a pari al dati preclinici di sicurezza dati non clinici non hanno mostrato alcun pericolo particolare per la specie umana in base a studi convenzionali di tossicità di una dose singola tossicità a dosi ripetute potenziale carcinogenico elenco degli eccipienti nucleo cellulosa micro cristallina crospodidone ipromellosa talco magnesio stierato rivestimento ipromellosa macrogol 400 titanio di ossido e 171 talco ferrossido giallo e 172 ferrossido rosso e 172 farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di agileva base di levofluoxacina emidrato sono algram alband batiflox epifloxin falev fin da tuo clectica le max il levobat levofluoxacina abc levofluoxacina accord levofluoxacina alter levofluoxacina aurobindo levofluoxacina doc levofluoxacina creta levofluoxacina pensa farma levofluoxacina tecnigia in italia levofluoxacina teva levofluoxacina azentiva levofluacina levofluoxacina levofluoxacina le voxidram prixar sineflox summa flox tabanic compressa rivestita trissile fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato